Sì Sei ancora presa quella ragazzina? Resta qui, stamattina. Sì Tu non hai viaggiato molto, vero? No, in realtà no. Che non si muove, non ha modo di rendersi conto quali sono le tue catene. Questo è per te. Sì Come ti chiami? Emanuele Dimmi la tua paura Il dolore Fisico? Sì È sembra che tu non ci sei ancora arrivata. Volevi sapere qual era la mia grande paura? La mia grande paura è stata la mia grande paura. E il dolore La mia grande paura è stata la mia grande paura. Sì È una grande paura.